L'Aquila non ci sta ad essere tagliata fuori dall'alta velocità Roma-Pescara. L'opera, che più che nell'alta velocità vera e propria consiste in un ammodernamento della linea ferroviaria che collega all'Adriatico e il Tirreno, passando per Sulmona e Avezzano, vale circa 7 miliardi di euro, trasporto merci compreso. Il progetto però, oltre a non avere ancora una copertura finanziaria, taglierebbe fuori Teramo e il capoluogo di regione. Noi dobbiamo dimostrare di avere l'intelligenza, la capacità e l'equilibrio di fare sintesi, di trovare insieme una soluzione che non mortifichi alcun territorio e che getti le basi per realizzare un'opera che diventa oggettivamente strategica per tutta la provincia, per questa regione in particolar modo anche per la nostra città. È follia pensare che si faccia un investimento di un miliardo e mezzo e la città dell'Aquila venga completamente tagliata fuori dai collegamenti. Noi non ce lo dobbiamo porre il ragionamento come cittadini dell'Aquila, noi il ragionamento ce lo dobbiamo porre come cittadini della regione Abruzzo. Benché un protocollo tra i governatori Zingaretti e Marsilio, l'allora ministra per le infrastrutture De Micheli e l'amministratore delegato di RFI Gentili, sia stato firmato un anno fa, in molti non sono convinti del progetto, sia per la strategicità negli scambi commerciali tra l'Europa orientale e quella occidentale, sia per l'impatto ambientale. Fase 1, Roma-Vezzano, 40 chilometri di gallerie, ad un costo di 2 miliardi 850 milioni di euro. La fase 2, questa è stata adottata, Pescara-Sulmona, gallerie 14 chilometri, costo 2 miliardi 400 milioni di euro. Fase 3, Sulmona-Vezzano, gallerie 18 chilometri, costo 1 miliardo 700 milioni di euro. Costo complessivo, iniziale 7 miliardi, lo studio di prefattibilità, tempi previsti 8 anni. Ora, capite bene che stiamo parlando di cifre mostruose, monumentali e astronomiche. Come classe dirigente possiamo elogiare questo dubbio? A capire, a capire, vogliamo che qualcuno ce lo certifichi, e lo chiedo non da Aquilano ma da cittadino italiano, se non ci sono ipotesi di tracciati alternativi che siano meno costosi, meno impattanti a livello ambientale. Faccio presente che il buco, i danni del traforo del Gran Sasso e le conseguenze, ancora ce le portiamo. Immaginate voi che cosa significa 70 chilometri di gallerie. Qualcuno ce lo vuole certificare che ci siano ipotesi o che non ci siano ipotesi, meno impattanti a livello ambientale. Dopo anche una petizione che ha raccolto circa 8.500 firme, il Consiglio Comunale Aquilano ha approvato, con 24 voti favorevoli, una risoluzione che impegna il Sindaco Biondi a presentare a Regione e Conferenza Stato-Regioni un progetto di fattibilità della rete ferroviaria Roma-L'Aquila-Pescara.